La finanza straordinaria è uno strumento valido per la crescita e il rinnovamento strutturale di ogni impresa, in particolare in tempi di crisi economica. E' quanto emersa la presentazione del corso su finanza straordinaria, un'esigenza per le imprese ed un'opportunità per i commercialisti, un'occasione per competere sui mercati nazionali ed esteri, così come hanno sottolineato i rappresentanti del mondo delle imprese e della finanza. Per il Presidente dell'Unione Industriale di Napoli, Paolo Graziano, la finanza straordinaria è una delle buone opportunità. Sono opportunità che insieme sia noi, devo dire molto brillantemente anche con l'Ordine dei Commercialisti, da tempo stiamo cercando di fare proselitismo presso i nostri associati, perché c'è necessità di far capire alle imprese, ma soprattutto anche ai dottori commercialisti, che è finito un'epoca, se ne può aprire un'altra, che ci sono grosse opportunità, bisogna adeguare la struttura delle imprese, la struttura ovviamente anche dei consulenti, alla nuova era che viene, dove non c'è più la banca capace di fare tutto e quindi è necessario anche un po' di strumenti straordinari. In un ruolo di primo piano è svolto dai commercialisti, come ha sottolineato Vincenzo Moretta, Presidente dell'Ordine di Napoli. Sicuramente è meglio, non potevamo ripartire, perché questa è sicuramente una lodevolissima iniziativa, perché è di grandissima qualità, di grandissima specializzazione e soprattutto il bassissimo numero di iscritti che partecipano a questo tipo di attività. È un'attività che può dare grandissime soddisfazioni, non soltanto economiche, ma anche di grandi start-up per piccole e medie imprese, di grandi progetti, di grandi idee e sicuramente oggi con questo corso vogliamo dare ai nostri iscritti un'opportunità. Secondo Amedeo Giurazza, Presidente della Commissione di Finanza straordinaria, operazioni straordinarie come le quotazioni in borsa, le emissioni di prestiti obbligazionali, l'ingresso di fondi chiusi, di private equity, possono essere decisivi per lo sviluppo delle imprese dopo la crisi economica.